Sta aspettando una risposta dalla direzione dell'ospedale Rummo di Benevento, il 37enne ganese che ha denunciato di essere stato insultato da un'infermiera del pronto soccorso del nosocomio Sanita. Era lì per una visita a Musa da tempo a Benevento dove lavora come mediatore culturale. Aspettava di essere curato quando l'operatrice sanitaria gli avrebbe chiesto il motivo della sua presenza in Italia. L'infermiera di turno non si sta preoccupando della mia salute, è molto infastidita dalla mia presenza. Così Musa ha scritto immediatamente in un post sul suo profilo Facebook dove ha continuato a raccontare l'accaduto. Chiedimi del mio problema per favore, avrebbe obiettato il 37enne che si sarebbe sentito dire no, questo è il mio paese e se non ti piace torna in Africa. Alle rimostranze del giovane la donna avrebbe urlato viva Salvini, viva l'Italia, fin poi all'intervento di altri sanitari che avrebbero prestato le cure necessarie al mediatore culturale. La vicenda ha scatenato un caso immediata alla condanna da parte di tanti sia attraverso i commenti al post sia in note ufficiali. Un gravissimo episodio secondo il comitato provinciale Arci Benevento presieduto da Fulvio Ianiro, una storia su cui si attende chiarezza e la posizione ufficiale dell'ospedale Rummo di Benevento.